Buongiorno a tutti, carissimi amici fincantieri, grazie, un grande grazie per tutto quello che avete fatto e quello che state facendo. È un straordinario lavoro che voi avete fatto. Vedete, io fin dall'inizio ho avuto questa idea che al Genomo si fanno navi e chi sa fare il navi sa fare tutto. Sa tagliare la miera, sa dargli forma, sa saldare, sa imbulonare e poi sa fare dei pezzi a grandi distanze, sa sfruttarli per via mare, insomma. E allora è venuta fuori questa idea di un ponte fatto come una chida di navi, come un grande vascello bianco che attraversa la vallata. E siete stati straordinari in quello che avete fatto e siete ancora più straordinari oggi a metterci tutta questa energia, questa girosità. Voi siete un po' come i medici oggi, loro con obnegazione, con forza, con coraggio lavorano negli ospedali e voi lavorate su questo cantiere che non si può fermare. Lavorate in sicurezza, state prudenti e avete tutta la mia gratitudine e quella di tutti quanti. Grazie.